La magnifica figlia di Albano e Loredana Lecciso ha postato di nuovo. Questa volta si tratta di uno scatto a dir poco spaziale. Nella foto Jasmine indossa una canottiera crop, top nera, un giacchetto color verde militare, ed un paio di blue jeans piuttosto larghi. Il suo stile non teme rivali. La carrisi ha un make-up molto leggero, la manicure nera, e i capelli legati. La sua bellezza ha mandato tutti al manicomio.La posa della bella influencer è molto accattivante. La strepitosa ventenne viene immortalata seduta, con una gamba piegata, una mano appoggiata sul ginocchio, e l'altra che regge un frullato, gli occhi chiusi e la bocca a pesciolino, come se volesse mandare un bacio a chi guarda l'immagine. Jasmine Carrisi, abbiamo trovato la foto più bella dell'anno. Che lo spettacolo abbia inizio.esclamativo la seguitissima Jasmine Carrisi è tra le figlie d'arte più chiacchierate d'Italia. Anche il suo ultimo post, infatti, è esploso di visualizzazioni dopo soltanto pochi minuti dalla condivisione. Sono centinaia e centinaia i mi piace, e i commenti, tra i quali spicca quello di una sua amica, famosa nel mondo dello spettacolo. Si tratta della bellissima regina dei balletti snodabili di TikTok Emma del Toro, che le ha inviato due emoticon raffiguranti una faccina con gli occhi a cuoricino. Ecco, invece, alcuni esempi di messaggi lasciati sotto al post dagli utenti che la seguono, e la ammirano sempre con tanta stima e affetto. Jasmine, straordinaria, bella, sei meravigliosa. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.